Operazione dei Carabinieri del ROS per l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP distrettuale di Catanzaro sull'inchiesta della DDA a carico di 43 persone. Sono tutte coinvolte nell'operazione a vario titolo per diversi reati che vanno dall'associazione delinquere di tipo mafioso a quella dell'associazione finalizzata alle truffe, all'estorsione e all'illecita concorrenza. Nell'ambito dell'inchiesta viene contestato anche il reato di omicidio. L'operazione è stata condotta con il supporto nella fase esecutiva dei Carabinieri dei Comandi Provinciali di Crotone, Cosenza, Catanzaro, Potenza, Parma, Brescia, Milano e Mantua e dallo squadrone Le Portato Calabria. 22 delle persone coinvolte sono indagate per associazione a delinquere di tipo mafioso, 9 per associazione a delinquere, 3 per associazione per delinquere finalizzata alle truffe ed altri per turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, estorsione, illecita concorrenza con minaccia o violenza. Trasferimento fradolento di valori, concorso esterno in associazione di tipo mafioso, turbata libertà degli incanti, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio e falsità ideologica e materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Tra gli indagati ci sono anche esponenti politici calabresi, ad alcuni tra l'altro viene contestato il reato di scambio elettorale politico mafioso, tant'è che nell'inchiesta ad alcune persone coinvolte viene contestato una serie di truffe con l'aggramante delle modalità mafiose. Le persone coinvolte nell'operazione sono indagate a vario titolo e per vari ideati. In questo filone finisce a domiciliare l'ex consigliere regionale e storico RAS dei voti di Crotone Enzo Sculco, mentre nella lunga lista degli indagati c'è anche la sorella e la figlia Flora, che da lui è ereditato il testimone in regione durante la scorsa legislatura. Sotto inchiesta finiscono anche l'ex governatore calabrese Gerardo Mario Oliverio, l'ex assessore regionale ed ex parlamentare Nicola Adamo, due super burocrati della regione, Mimmo Pallaria, ex sindaco di Curinga, attualmente consigliere comunale ed è anche direttore generale del Dipartimento della Forestazione della regione Calabria. E poi ancora Orsola Raillo, così come l'ex presidente del Crotone Calcio Raffaele Vrenna.